Ci mettiamo proprio qua sotto la coperta Ok, ok, calma, calma, Aghi, vieni con me però, eh Ok, e mi metto sotto il tavolo Andiamo Pizza 9 e 20 Chi è dentro dentro, chi è fuori, è fuori Ciao a tutti ragazzi, siamo Remy e Molly E oggi sono tornati Lì avete riconosciuti ragazzi, sì, sono proprio loro, i nostri fantastici Aghi Wagi E oggi solo per voi, ma proprio solo per voi Perché ce l'avete chiesto di rifare questo fantastico video che vi era piaciuto tantissimo Faremo di nuovo il nascondino degli Aghi Wagi Sì ragazzi, perché ne abbiamo tantissimi e di tutti i colori Guardate che buffi C'è quello verde, c'è quello nero, quello rosso e quello con le stelle Quello è il mio Molly Sì, 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 il tuo, sono tutti i miei E comunque sia No, 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 cosa stai dicendo? Non sono tutti i tuoi Saranno di chi si nasconderà meglio Ok, allora vorrei dire una cosa Sì, c'è ancora l'albero di Natale Perché a me piace, però purtroppo a breve dobbiamo toglierla, non ci sarà più Ma se questo video arriva a 5.000 mi piace, lo teniamo, ok? No, 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 possiamo tenere l'albero di Natale Lo teniamo, lo decido io Ma, 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 ma Molly, è ormai... Lo teniamo all'albero di Natale, hai capito? Ok, non facciamo arrabbiare Molly Allora, in pratica, il video di oggi consiste nel doversi nascondere nel colore del tuo Agiwagi Quindi se ti capita chissimissi, devi trovare un posto tutto rosa, ok? Ok, siamo prontissimi, abbiamo capito tutto Quindi adesso inizierò io, sceglierò due Agiwagi Poi li nasconderò dietro la schiena Tu dovrai scegliere se destra o sinistra Io ti farò vedere quello che hai scelto e dovrai correre a nasconderti Ok, iniziamo Ok, Rabbi, dimmi quando hai fatto, eh Ok, ma chiudi bene gli occhi, non sbirciare No, 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 ti vedo, non sbirciare, ok? Ok, ragazzi, allora, posso parlare perché Tante Molly è lì, ma non può vedere Può sentire, ma non può vedere Sbrigati Ok, quale scelgo, ragazzi? Devo scegliere uno difficile Vediamo, questo no, perché sicuramente è il Jolly Potrà nascondersi dove vuole Quindi vediamo, io scelgo questo E scelgo questo Sì, io direi che sono proprio due bei colori Voi che cosa dite? Allora, lo mettiamo questo nella destra e questo nella sinistra Nascondiamoci e Molly, sono pronta! Ok, vado, apro, eh Sì, puoi guardare Allora, destra o sinistra? Quale scegli? Allora, sicuramente avrei messo dei colori molto belli, secondo me E quindi, secondo me, la destra è quella che mi porterà fortuna Sei sicuro, sicuro, sicuro? Sicuro, 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 sicuro Proprio sicuro, sicuro, sicuro Sicuro, 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 sicuro Ok, eh, sì, però li ho scambiati Quindi non mi ricordo quale ho messo nella destra Perché non vedo neanch'io Vediamo un po' Rosso! Rosso! Ok, Molly, hai scelto il rosso Nell'altra c'era il verde No! Allora, adesso hai, fammi pensare 20 secondi per nascondersi ovunque nella casa Ma in un posto rosso Ok, quindi, devo trovare il colore rosso Il colore rosso Tu, Reby, però non guardare Chiudi gli occhi, eh No, non guardo Però fai veloce perché inizio a contare 1 Ok, ok, calma, calma, calma 2 3 Devo scegliere 4 Il colore Andiamo più in là perché sta contando Ragazzi, ho trovato questo di colore rosso Ma non posso nascondermi qua Mi vedrà No, 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 no Questo non va bene Allora, le tende sono rosse Però, non lo so Potrei usare queste sedie per nascondermi Ragazzi, ho preso la coperta È rossa questa Eh, sì, è rossa La Reby non può trarrompermi le scatole, ok? Quindi, Aghi e Waki Noi ci mettiamo proprio qua sotto la coperta Ok, ok, calma, calma, Aghi Vieni con me però, eh Ok, e mi metto sotto il tavolo Andiamo 18, 19, 20 Chi è fuori e fuori E chi è dentro e dentro Allora, Molly, ti sei nascosto bene? Perché ti sto venendo a cercare? Ragazzi, siamo qui Dobbiamo fare molto piano Hai capito, Aghi? Bisogna nascondersi Ok, va bene Ciao, ragazzi Allora, ragazzi Il colore era il rosso Quindi sicuramente si sarà nascosto da qualche parte qua Perché qua c'è un sacco di rosso Allora, c'è il fiocco rosso Vediamo se è dietro l'albero Oh! Eh, no Non c'è Molly dietro l'albero Allora, proviamo dietro il divano Dietro il divano No, no, ma non c'è spazio qui Non si potrà essere nascosto qui E neanche sotto questo poof Ok, direi di cambiare stanza Perché qui non c'è niente di rosso Allora, proviamo ad andare di qua Molly! Stavate da cercarti? Ragazzi, non ho trovato Molly da nessuna parte Ma dove sei nascosto? Cioè, di là non c'era E io ho finito le cose rosse qua dentro No, vabbè Ho appena visto una cosa Guardate un po' Lì ci sono due sedie rosse E c'è anche una coperta rossa E c'è un akivaki rosso E c'è un Molly tutto rosso Dalla per te Ehi, non vale Come hai fatto a trovarci? Mi ha trovato Però non vale Questa coperta è Eh sì, è rossa Però non vale così Dovevi nasconderti in un posto rosso Non rubare tutte le cose rosse E metterti sotto Hai barato Lo sappiamo Ma come ho barato? Secondo me ha barato Secondo te? Secondo me ha barato un sacco Non è vero Non ho barato Comunque adesso tocca a te Ok, Rebi È il mio turno Quindi Chiuditi gli occhi E io scelgo L'aggy waggy Ok Fai veloce però E mi raccomando Scegli due bei colori Eh Tieni chiusi Non guardo Non guardo Promesso Ragazzi Guardate questi due piccoletti Che ne dite Usiamo questi due nanerottoli Per la Rebi Sì Ok Rebi È arrivato il momento Di scegliere l'aggy waggy Destro o sinistra Ah Non lo so Non lo so Non lo so Destra Il mini aggy waggy Non ci credo Un mini aggy waggy Che carino Ma posso sapere Che cosa era l'altro colore Mini aggy waggy No Bello Lo volevo anche blu Era proprio aggy waggy blu Eh Però vabbè Ho scelto grigio Quindi mi vado a nascondere Ok Hai 20 secondi Per nasconderti Vado Ok ragazzi Ho pochissimo tempo E devo sbrigarmi Dove mi metterò di grigio Ma non c'è niente di grigio In questa casa Questa casa È piena di colori Perché io molli Adoriamo i colori Il grigio non è un colore Dove vado Dove vado Dove vado Non lo so ragazzi Guardate Lì c'è una scarpiera Per fortuna È grigia Ok facciamo così Devo fare piano Se non molli mi sente Piano piano Per favore Piano 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 Ok Ok ci siamo L'abbiamo un po' spostata Mi metterò qua dietro Ecco Mi si vede Speriamo di no Diciannove Venti Chi è dentro Dentro Chi è fuori È fuori Ok Vediamo ragazzi Dove Si è nascosta La Reby Vi ricordo Che ha La Ghiwaghi Grigio E secondo voi Dove potrebbe essere Questa casa È piena di posti grigi Ma secondo me Il posto Dove Ci Chi sia Più Grigio È Il bagno Perché Parlo Così Non lo so Ragazzi Avete sentito Ho sentito in lontananza Che vuole andare nel bagno Ma deve per forza Passare qui davanti Mi vedrà sicuramente Aiuto Ma dove cavolo è andata Sicuramente sarà in bagno Ragazzi È incredibile Ragazzi ma come ho fatto È passato proprio qui davanti L'avete visto E non mi ha trovato Cioè era impossibile Non vedere che si è spostato Il calzascarpe Vabbè Il calzascarpe Che cosa sto dicendo Il portascarpe Vabbè Comunque ragazzi Io rimarro qua Perché tra poco tornerà E a questo punto Sarà ora di fare Tana Ok Qui non c'è Non so dove Andiamo a fare Tana Ma non si posso credere Eri dietro al portascarpe Esatto E l'avevo anche spostato Ma dai Ma guarda Povero Aghiwagi Ops Per andare a fare Tana Me l'ero dimenticato No 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 È mio Abbiamo vinto insieme Abbiamo vinto insieme Ok Va bene Allora Direi di fare Un'altra partita Mi nascondo io Ma direi che ho vinto io Allora Facciamo una cosa Chi vince questa Vince tutto Ok Ci sto Ma la faremo Nel prossimo video Quindi mi raccomando Ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate subito Un bel like Iscrivetevi Se non vi siete iscritti E mi raccomando Fateci sapere Nei commentini Se volete vedere La sfida finale Di Nasconditi Nel colore Del tuo Aghiwagi Ok ragazzi Speriamo che il video Vi sia piaciuto Quindi mi raccomando Lasciate tantissimi Mi piace E faremo un'altra sfida Di peluche Di colori Di nascondino Sì ragazzi Da noi E i nostri Mille coloratissimi Aghiwagi Ci vediamo presto In un nuovo Fantastico video Ciao